Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dal prossimo ottobre non sarà più la Tecra ad occuparsi della raccolta dei rifiuti ma le impianti SRR che ieri ha firmato assieme al comune di Gela il contratto attuativo per la gestione del nuovo servizio. Per il sindaco Lucio Greco e per l'assessore all'ambiente Ivan Liardi si tratta di un passo molto importante che finalmente darà un servizio efficiente alla città. Si parte dopo l'estate anche se bisogna ancora provvedere alla copertura finanziaria con la variazione di bilancio che andrà in aula la prossima settimana. La nuova era della gestione rifiuti in house inizierà concretamente dopo l'estate ma ieri finalmente è arrivata la firma sul contratto attuativo tra impianti SRR e comune. Gli ultimi particolari sono stati finalizzati proprio ieri pomeriggio a Palazzo di Città mentre era in corso la conferenza stampa di presentazione. Il nuovo contratto attuativo per il servizio rifiuti consentirà di superare il quasi decennio di Tecra, andato avanti prevalentemente attraverso proroghe tecniche. Impianti SRR e l'amministrazione comunale nonostante la situazione finanziaria del municipio e i rapporti spesso conflittuali hanno così trovato l'intesa. L'ultimo vero miglio sarà quello della variazione di bilancio a copertura. Quest'ultimo step dovrebbe essere finalizzato in consiglio comunale la prossima settimana. Impianti SRR come confermato dal manager Giovanna Picone, dal consulente Diego Stagnitto e dal responsabile tecnico Grazia Cosentino, prima dello start al nuovo servizio effettuerà un'attività di pulizia straordinaria. Per il sindaco Lucio Greco e l'assessore all'ambiente Ivaliardi si tratta di un passo molto importante che finalmente darà un servizio efficiente alla città. Un passo assolutamente importante. Oggi si firma il contratto attuativo per far sì che il servizio possa partire prima possibile compatibilmente chiaramente con il completamento delle attività perché la società possa essere pronta a far avviare il servizio stesso. Sia noi come ente diciamo che abbiamo richiesto il servizio ma sono certo che anche la società farà di tutto perché ormai dopo la firma del contratto attuativo questo servizio parta, parta prima possibile, parta col piede giusto, c'è piena sintonia da questo punto di vista e siamo convinti che ove certamente tutto questo dovesse comportare qualche ritardo saremo sempre assieme per superare qualunque problema, qualunque ostacolo perché è interesse sia della impianti SRL e sia del Comune di Gela far partire prima possibile il servizio. Sicuramente le tribolazioni finanziarie del municipio non hanno di certo favorito il cammino è divenuto piuttosto tortuoso. I vertici di impianti SRL e SRL 4 da tempo spiegano di essere nelle condizioni di avviare l'attività anche in città dopo averlo fatto negli altri comuni dell'ambito. L'approvazione del piano economico finanziario da poco varato dell'assiste civica è stato così lo sprone fondamentale. Chiaramente impianti SRL può operare solo in presenza di una garanzia finanziaria solida anche perché, come indicato dal manager Picone, Gela è una sfida importante per l'azienda. È una sfida che un po' ci preoccupa perché chiaramente per noi è un cantiere molto più impegnativo ma così come abbiamo ottenuto gli ottimi risultati degli altri comuni siamo fiduciosi che tutti insieme riusciremo a fare un gran lavoro. Intanto impianti SRL ha finalizzato l'assunzione attraverso il sistema della clausola sociale di 132 operai per gli altri comuni dell'ambito. Entreranno a pieno regime in impianti dal primo giugno. Quelli del cantiere locale invece attendono il passaggio vero e proprio da Tecra all'inaus. Nelle prossime settimane intanto saranno finalizzati gli acquisti dei mezzi più consistenti da effettuare tramite gara europea. L'azienda si è già portata avanti con l'acquisizione di altri mezzi e dei mastelli intelligenti che leggono i codici delle varie tipologie di rifiuto. L'obiettivo adesso è quello di garantire una città più pulita. Il sindaco ha voluto altre unità per migliorare proprio la qualità del servizio, altri mezzi tant'è vero che come sapete il costo del servizio è aumentato quindi ci auguriamo che con più mezzi, più attrezzature e con servizi aggiuntivi come per esempio il lavaggio delle strade noi riusciremo ad avere una città sicuramente più pulita. Nel corso degli ultimi anni i rapporti istituzionali tra l'amministrazione e gli impianti non sono mai stati idilliaci anche perché il sindaco greco avrebbe voluto orientare le scelte su altri sistemi. Il nuovo contratto però apre una fase del tutto differente rispetto al passato e i vertici dell'inaus puntano parecchio sul servizio in città anche rispetto alla filiera sostenibile avviata fin dall'insediamento dell'attuale management. E ancora verifiche nei settori comunali e nei confronti con tecnici e revisori la fase di ricognizione dei debiti è praticamente conclusa. L'obiettivo rimane il rendiconto che potrebbe essere trasmesso alla presidenza entro il fine mese o nei primi giorni di giugno. L'approvazione della delibera dei riaccertamenti sembra aver dato maggiore slancio ai lavori in corso a Palazzo di Città nel tentativo di farsi trovare pronti per la trasmissione dei correttivi alla Corte dei Conti. Anche ieri non sono mancati i controlli e le verifiche sugli atti che arrivano dai settori. L'assessore al bilancio Mariangelo Faraci è stata a confronto con i revisori presenti a Palazzo di Città. La ricognizione dei debiti fuori bilancio sembra praticamente conclusa e il collegio pare non stia individuando criticità particolari. Le attività in corso sono tutte propedeutiche al rendiconto 2021 che fornirà l'assetto effettivo del disavanzo dell'ente comunale. Il documento finanziario, se la tabella di marcia non subirà rallentamenti, potrebbe essere trasmesso alla presidenza del Consiglio Comunale entro fine mese o al massimo nei primi giorni di giugno. Il 12 giugno è fissata la seduta di prosecuzione per il dibattito sulla sfiducia e dentro quella data vanno trasmessi i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. Sia il segretario generale Carolina Ferro sia la dirigente al bilancio Pino Erba a loro volta hanno continui contatti e interlocuzioni con i settori, con gli assessori e con il sindaco Lucio Greco. Sembra prevalere una certa fiducia anche se non mancano gli aspetti da valutare con attenzione come già capitato per il settore patrimonio rispetto al dossier degli espropri agroverde verificato direttamente dal segretario Ferro. L'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere una proroga del termine per la presentazione dei correttivi e sul fronte politico uno slittamento della mozione di sfiducia. Nelle prossime settimane però si giocherà il tutto per tutto nel percorso per schivare il dissesto. Verrà inaugurata il prossimo 24 maggio la riqualificata Piazzetta Guccione a San Giacomo. Sono stati residenti ai componenti del comitato di quartiere ad attivarsi per riqualificare la zona nel cuore del quartiere. Prima si terrà una messa nella chiesa di San Giacomo. Guccione, medaglia d'oro al valore militare, sarà celebrato con un corteo dalla chiesa e fino alla piazzetta. Il calendario da un milione di euro degli eventi legati all'ottantesimo anniversario dallo sbarco, partito come la grande occasione per rilanciare Gela nei circuiti turistici di tutto il mondo, si avvia tristemente verso un corposo ridimensionamento. Una storia già vista altre mille volte in una città che non riesce spesso a guardare oltre i propri confini. Da Gela 2700 all'ottantesimo dello sbarco alleato la storia recente della nostra città è caratterizzata da grandi ambizioni e ricerca della ribalta che finiscono poi per scontrarsi con la cruda realtà a un passo dal traguardo. Il campionario delle occasioni perse in città è tristemente ricco di grandi eventi e sensazionali ribalte nazionali e internazionali annunciate in pompa magna e poi mai realizzate per mancanza di idee, fondi o competenze adeguate. Il calendario da un milione di euro degli eventi legato all'ottantesimo anniversario dello sbarco, partito come la grande occasione per lanciare Gela nei circuiti turistici di tutto il mondo, si avvia tristemente verso un corposo ridimensionamento, nella migliore delle ipotesi, se non verso un vero e proprio flop. Il milione di euro di finanziamento per l'intero evento e che avrebbe dovuto coprire i costi delle varie attività dal 10 luglio al 3 settembre si è dissolto come una bolla di sapone, prima ancora di essersi materialmente concretizzato, con l'unico risultato di aver acceso gli appetiti di che ha provato a lucrarci su con eventi dai prezzi gonfiati, molti per fortuna bocciati dal lavoro del comitato tecnico, e aver aizzato le folle contro una spesa che a molti sembrava eccessiva, considerate le condizioni in cui versa la città e la tempesta finanziaria in cui è convolto il comune. Oggi, al 20 maggio, non si sa ancora cosa sarà di quel progetto realizzato dal comitato tecnico e consegnato all'amministrazione più di un mese fa, ma la sensazione forte è che tutto resterà sulla carta, lasciando Gela e la sua voglia di ribalta ancora una volta con la bocca asciutta. Una storia già vista altre mille volte in una città che non riesce spesso a guardare oltre i propri confini. Successe una cosa simile nel 2012. Gela si appressava a festeggiare il 27 centesimo anno dalla sua fondazione, un'occasione d'oro per promuovere convegni, eventi internazionali e per rilanciare le bellezze archeologiche della città. Anche allora ci furono conferenze stampa, pagine e pagine di giornali e ipotesi di finanziamenti milionari, ma tutto si spense come un fuoco di paglia, lasciando in eredità alla città unicamente un logo dell'evento e poco o nulla di più. Un copione ripetuto due anni più tardi con l'anniversario del congresso mondiale sulla pace che si svolse proprio a Gela nel 414 a.C. Anche allora il progetto Invasioni di Libertà prometteva di fare di Gela il centro del Mediterraneo con convegni ed eventi internazionali. Anche allora tutto finì nell'arco di pochi mesi, senza fanfare o ribalte, con l'ennesimo evento nato e morto in uno schiocco di dita. La storia della città insomma parla chiaro. Non c'è ancora la maturità per guardare oltre il proprio steccato e le grandi occasioni si trasformano il più delle volte in un assalto alla diligenza da parte di chi pensa all'interesse singolo piuttosto che a quello della comunità. I grandi eventi così si trasformano in armi di distrazione di massa, utili a guardare il dito mentre si indica la luna. E la sensazione purtroppo è che questo succederà anche con l'ottantesimo dello sbarco alleato, destinato ad infrangersi sulla mancanza di fondi, sull'incapacità atavica di gestire grandi eventi e sull'eterno vizio dello scaricabarile, unico vero alibi di chi promette di fare e poi non fa. Una storia già scritta purtroppo, ancora una volta. Le cronaca giudiziaria furono coinvolti nell'inchiesta ultima fermata, concentrata su un giro di droga scoperto nella zona della stazione ferroviaria. Fu ricostruita pure una rapina, due giovani sono stati condannati. Erano stati coinvolti nell'inchiesta ultima fermata condotta dalla procura e dai carabinieri. Il collegio penale del tribunale, preseduto dal giudice Miriam D'Amore, ha emesso condanne per i giovani Piero Francesco Frazzitta e Francesco Ascia. Fu riscontrato un giro di droga con base nella zona della stazione ferroviaria. I militari risalirono anche i rapinatori che entrarono in azione all'interno del bar annesso. Per Frazzitta, che ha già diversi precedenti penali alle spalle, la condanna è a sei anni di reclusione. In continuazione, con quanto deciso in un'altra sentenza, la richiesta della procura era di otto anni. Il collegio ha riqualificato una delle contestazioni nella fattispecie meno grave e gli ha riconosciuto le attenuanti. Il 23enne, difeso dal legale Davide Limoncello, nelle conclusioni ha ammesso in dubbio il ruolo dell'imputato rispetto ai capi d'accusa. Quattro anni e sette mesi di detenzione invece sono stati disposti per Francesco Ascia, a sua volta 23enne. La richiesta formalizzata dalla procura era di sette anni di reclusione. Il difensore, l'avvocato Carmelo Tuccio, nelle conclusioni ha insistito sull'assenza di elementi certi per provare che l'imputato abbia preso parte alla rapina, mentre rispetto alle imputazioni legate alla droga è stato riferito che non si trattò di spaccio. Ad Ascia sono state concesse le attenuanti e inoltre è stata riqualificata una delle contestazioni. E prenderanno il via oggi con l'inizio del triduo animato dalle religiose presenti in città i festeggiamenti in onore di Santa Rita ad Acascio, venerata nella chiesa di Sant'Agostino. Domani invece la celebrazione sarà animata dal movimento di spiritualità vedovile, speranza e vita di Gela. E domenica della Pia Unione di Santa Rita a conclusione seguirà il racconto del beato transito della Santa delle Rose. Lunedì 22, giorno della festa in onore della Santa delle cause impossibili, le sante messe saranno 7.39, 10.30, 12 e 17. Alle 19 invece in piazza Sant'Agostino inizierà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale Monsignor Antonino Rivoli. A conclusione la breve processione del simulacro della Santa. Dopo ogni santa messa, benedizione delle rose, venerazione della reliquia di Santa Rita così cara al popolo cristiano. Con le dighe da anni al palo e con un settore agricolo locale in crisi profonda, la politica cerca di farsi sentire. La Commissione consigliare in agricoltura incontrerà l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. Le enormi difficoltà del comparto agricolo locale non sono una novità e gli operatori del settore in questi giorni si stanno mobilitando con l'intento di avere riscontri dalle istituzioni anzitutto regionali. Non solo l'enorme flessione dovuta alla speculazione sul grano ma sul territorio a farsi sentire principalmente il blocco di infrastrutture come le dighe al palo da anni. L'acqua non arriva nei campi, andare avanti è un'impresa quasi del tutto insostenibile. Di recente la Commissione consigliare agricoltura, presieduta dal forsista Carlo Romano, ha avuto modo di ottenere ragguagli da uno dei responsabili locali del consorzio di bonifica. Sentito in audizione, anche Elente affronta problemi che incidono sempre più spesso sui servizi erogati. Quello delle dighe è un nervo scoperto e gli agricoltori locali sono costretti a sopportare lo sversamento dell'acqua in mare mentre le loro aziende soffrono per l'assenza di forniture idriche. La Commissione ha già avuto contatti con l'assessore regionale Roberto Di Mauro e sua la competenza sugli invasi regionali. Dentro fine mese dovrebbe tenersi un incontro probabilmente a Palermo. Ci sono stati i contatti tra il gruppo locale dell'MPA e lo sesso Di Mauro, a sua volta in area autonomista, collegamenti istituzionali che favoriscono il dialogo con il governo regionale, il presidente della Commissione Romano e gli altri componenti, Virginia Farruggia, Giuseppe Morselli, Vincenzo Casciana, Diego Iaglietti, Valeria Caci e Giuseppe Spata, avranno così modo di porre delle priorità su investimenti pubblici che possono essere essenziali per ridare acqua alle campagne attraverso il ripristino delle dighe e senza dimenticare il ciclo delle acque reflue per il quale l'Arsa ha varato una disciplina specifica. O è una rappresentazione dell'Ordine degli Avvocati di Gela stamattina coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Berga nella simulazione di un processo per far capire loro cosa sia la vera legalità. Gli alunni divisi in gruppi hanno preparato la difesa e l'accusa dell'imputato. Il protagonista di un libro per ragazzi hanno affrontato il processo in tutte le sue fasi fino al verdetto del giudice. Le enormi difficoltà del comparto agricolo locale non sono una novità e gli operatori del settore in questi giorni si stanno mobilitando con l'intento di avere riscontri dalle istituzioni anzitutto regionali. Non solo l'enorme flessione dovuta alla speculazione sul grano ma sul territorio a farsi sentire principalmente il blocco di infrastrutture come le dighe al palo d'anni. L'acqua non arriva nei campi e andare avanti è un'impresa quasi del tutto insostenibile. Di recente la commissione consigliare agricoltura presieduta dal forzista Carlo Romano ha avuto modo di ottenere ragguagli da uno dei responsabili locali del consorzio di bonifica. Sentito in audizione anche Elente affronta problemi che incidono sempre più spesso sui servizi erogati. Quello delle dighe è un nervo scoperto e gli agricoltori locali sono costretti a sopportare lo sversamento dell'acqua in mare mentre le loro aziende soffrono per l'assenza di forniture idriche. La commissione ha già avuto contatti con l'assessore regionale Roberto Di Mauro e sua la competenza sugli invasi regionali dentro fine mese dovrebbe tenersi un incontro probabilmente a Palermo. Ci sono stati i contatti tra il gruppo locale dell'MPA e lo sesso Di Mauro a sua volta in area autonomista collegamenti istituzionali che favoriscono il dialogo con il governo regionale. Il presidente della commissione romano e gli altri componenti Virginia Farruggia, Giuseppe Morselli, Vincenzo Casciana, Diego Gliaglietti, Valeria Caci e Giuseppe Spata avranno così modo di porre delle priorità su investimenti pubblici che possono essere essenziali per ridare acqua alle campagne attraverso il ripristino delle dighe e senza dimenticare il ciclo delle acque reflue per il quale l'Arsa ha varato una disciplina specifica. L'hanno notato alcuni residenti della zona in spiaggia in un tratto del litorale di Manfria c'era uno squaletto spiaggiato. Chi l'ha trovato ha subito notato diversi ami e pare fosse ancora vivo quando è stato individuato. E tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti. Vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Adesso vi lascio le previsioni meteo. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.